Succede molto spesso che dopo una separazione o un divorzio gli ex coniugi possono allacciare relazioni con altre persone. Ed è un loro diritto, non c'è alcuna norma nel Codice Civile che proibisca appunto di rifarsi una vita. Spesso succede tuttavia che quando ci sono figli minorenni questi bambini, questi adolescenti, vengono coinvolti in queste nuove relazioni ed è certamente un argomento molto delicato. Non possiamo impedire ad un uomo o ad una donna di rifarsi una vita e di coinvolgere altre persone nella vita dei figli. Tuttavia resta un discorso di opportunità che vale per tutti. Vale per i genitori che devono saper presentare ai figli i nuovi compagni e vale anche per i nuovi compagni saper fare un passo indietro, non giocare a fare i genitori ma fare di zii senza interferire sugli indirizzi educativi dei veri genitori. Questo è importante perché dobbiamo evitare che si crei la cosiddetta confusione genitoriale. Grave quando per esempio il nuovo compagno si fa chiamare papà e la nuova compagna si fa chiamare mamma. Trovo questa cosa veramente diseducativa e destabilizzante. Tuttavia molte volte queste nuove persone possono essere una risorsa. Ho conosciuto casi in cui il nuovo compagno della mamma o la nuova compagna del papà sono persone straordinarie che hanno offerto e che offrono un contributo importante anche a livello logistico e organizzativo per la vita di questi ragazzi. Tuttavia prudenza e soprattutto cercare di capire che gli interessi più importanti sono quelli dei ragazzi e non quelli dei genitori e né tantomeno quelli dei compagni dei genitori. Ultimamente c'è stata una sentenza, la 30.160 del 2022, che ha sancito un principio secondo il quale può perdere l'affidamento condiviso o la collocazione stabile dei figli quel genitore che litiga in maniera aspra con il nuovo compagno o la nuova compagna mettendo in discussione la serenità dei figli presenti. Per cui attenzione anche a litigare con i nuovi compagni o ad avere delle infusioni amorose che vadano oltre la decenza perché è molto importante preservare i ragazzi da certe situazioni. Altrimenti interviene il giudice, altrimenti intervengono i servizi sociali, i psicologi, quindi io consiglio a tutti di mantenere sempre il giusto equilibrio tra quello che è il diritto di rifarsi una vita rispetto al diritto dei figli di vivere in maniera serena e sana la loro avventura di una famiglia disgregata perché attenzione i bambini non hanno un avvocato, non possono difendersi, devono subire le decisioni dei genitori e loro i genitori devono essere all'altezza della situazione. Per tutte le altre notizie iscrivetevi al canale di YouTube Studio Legale Cassani o potete visitare il sito www.studiolegalegassani.it Alla prossima!